Trova il suo habitat ideale nella scuola Puliamo il mondo, la campagna che lega ambiente sviluppa da tempo anche su questo territorio. Già 1500 i bambini coinvolti negli ultimi 4 anni in lezioni di cittadinanza attiva, mirate a sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e a promuovere buone prassi quotidiane, con particolare riguardo alla differenziazione dei rifiuti. Si punta così a costruire una società del domani consapevole dell'importanza di preservare il pianeta, ma nell'immediato anche sull'effetto moltiplicatore garantito da chi, all'interno della propria famiglia, può propagare il messaggio di cui la campagna si fa portatrice. È stata la scuola primaria Gentile, parte dell'Istituto Comprensivo Padalino, lo scenario della prima tappa di un tour che interesserà in queste settimane anche la secondaria di primo grado Gandiglio, la primaria Montesi e la secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Sant'Orso e la primaria Rodari dell'Istituto Comprensivo Nuti. L'agenda prevede che dopo un'incursione in classe, per illustrare il significato dell'iniziativa, i principi e gli obiettivi che la ispirano, si guidino i bambini all'azione, impegnandoli a rimuovere i rifiuti da aree pubbliche, come è avvenuto per quella adiacente alla Gentile in occasione del primo appuntamento. Per noi è fondamentale educare i bambini non solo all'ambiente ma proprio all'amore e al rispetto nei confronti del pianeta in cui stiamo vivendo. È un'azione di educazione civica e ambientale e serve non solo per far capire l'importanza del nostro pianeta ma anche per far capire ai bambini qual è, perché si parte dai bambini per poi arrivare agli adulti, qual è la giusta gestione dei rifiuti all'interno della nostra città e qual è la giusta gestione dei rifiuti in generale. Per esempio la cartaccia non va buttata per terra dopo aver fatto merenda ma va buttata nell'apposito cassonetto, non solo questa cosa se riusciamo bene nella nostra attività la trasmettono anche a casa, quindi i bambini quando vedono i genitori che buttano qualcosa per terra lo fanno presente che è un'azione sbagliata. La scuola con le tantissime attività, le progettualità e anche con l'adesione a un protocollo di certificazione internazionale che è quello di EcoSchool, che è un riconoscimento importantissimo perché tutte e sei le nostre scuole ricevono questo riconoscimento che certifica il tanto impegno, il tanto lavoro che viene fatto con loro tutti i giorni. Ecco questo va a testimoniare quanto sia importante per la scuola arrivare ai partiti dai bambini sin dall'infanzia fino alla secondaria di primo grado. A fianco di Lega Ambiente anche Aset, non solo assicurando la fornitura di guanti e sacchi e la distribuzione di gadget ma condividendo integralmente lo spirito della campagna. Sì, Aset come azienda dei servizi per il territorio tiene tantissimo alla presenza nelle scuole per educare le giovani generazioni a dei comportamenti corretti e responsabili sia per l'oggi e soprattutto poi per il futuro perché è vero che noi diamo servizi alla cittadinanza ma è anche vero che l'azienda da sola non può farcela. Ha bisogno della collaborazione dei cittadini, sia degli adulti naturalmente ma soprattutto dei giovani e delle giovani generazioni perché noi oggi andando nelle scuole a spiegare i comportamenti corretti, in questo caso per la corretta differenziazione dei rifiuti, riusciamo a investire e a garantirci un futuro migliore. Sull'associazionismo impegnato su questi temi fa molto affidamento anche l'amministrazione comunale. È fondamentale, l'associazione di volontariato che si occupano di questo tipo di iniziative collaborano in maniera davvero puntuale con l'amministrazione comunale, abbiamo intrapreso già da diverso tempo, ripreso una serie di colloqui anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa per far sì che nell'arco dell'anno ci siano puntualmente e periodicamente una serie di attività che coinvolgano gli studenti, ma non solo, anche le aziende perché abbiamo patrocinato degli eventi dove erano coinvolti in team bidding, quindi lavoratori di aziende, per far sì proprio che questo tipo di messaggio venga trasmesso a tutti.